Facciamo la barba. Barnett. Ted Barnett e la Gomez. Se dovesse capitarvi di incontrare Ted Barnett, che fai? E invece no, lo dovete riempire di piombo e basta. Sparategli a vista, chiaro? Barnett domani sarà impiccato. Domani tutto tornerà come prima. Ed è l'uccisione di mio padre. Cosa sai? Te lo ripeto, non so niente. Neanche di tuo padre. Dove sono le armi? Prima i soldi. Dico che se Barnett torna a Carltown sarà certo per ringraziarvi di quei trent'anni che gli avete affibbiato. la tua vita è appesa a un filo e non lo sai. chi ha ucciso mio padre? Dottore, che diavolo fai? non è mica come Cavardetti qui, sai, porco schifo. Porco schifo lo dico io, assassino.